Commenta il fatto del giorno Omar Monestier, direttore del Messaggero Veneto. Muore Enzo Tortora, una grande tragedia della storia italiana. Oggi parleremo di questo. È uno di quei casi che hanno molto a che fare con la vita di questo paese e anche con il lavoro della magistratura italiana. Non è l'unico caso, ma certamente uno dei più clamorosi. Bisogna stare attenti a non banalizzare e non agire per luoghi comuni, ma certo qui ci si è trovati davanti a una manipolazione della verità, della realtà e anche del processo giudiziario. La cosa che ancora oggi più sconvolge guardandosi indietro è che i responsabili di questo enorme errore giudiziario non hanno di fatto subito alcuna sanzione. Un monito per tutti quelli che anche oggi celebrano i processi, prima sui giornali e nelle televisioni e poi nelle aule giudiziarie.